allora io avrei preferito qualcosa di diverso anasus perché prende altro scaling è abbastanza sad quando abbiamo già una full scaling draft avrei preferito una lane per cui giocare però vabbè vado a coprire la bot dai dev di Lee Sin suppongo altrimenti vengono dai vadia spam quindi game plan è coprire la bot possibilmente ieri sera no ieri sera no ok scusate allora voglio anche chiudere questa perché è un'altra mi fa un po' la ghicchiare pare ok here we go ci siamo siamo contro una sgradeva perdiamo tutte le early game quindi dobbiamo vacillare purtroppo let me cover bot non dobbiamo non dobbiamo forzare niente dobbiamo scalare ed è facile kartus è broken sia bot che altro non troppo vale va benissimo kartus però abbiamo doppio exhaust perché abbiamo doppio exhaust e non abbiamo yell una ragazza non aveva messo yell e perché ieri ho vinto un po' di game ero addirittura a 1080 prima di diventare un game in riservo stream ieri abbiamo vinto una altra parte del game in stream e oggi faremo la stessa identica cosa potrei pensare di fare un chasing bait e lì sì dobbiamo provare dobbiamo provare il chasing bait ragazzi e lì sì dovrebbe giocare per bot proviamo dai non voglio nemmeno controllare tanti se hai fatto bene un po' meglio però ancora non bene Dante he's in a flash huge ciao bitto buon dia questo ci dà una lead infinita perché mandare behind i loro jungler early beh ti incarico e fai mandare behind i loro jungler early quando noi dobbiamo solamente scalare è stra importante poi sappiamo anche dove è ora ovviamente peccato potevo forse fare la kill flashando in realtà non va la biett non forzare la bot non va la kill ha presaggione non draven no Ah? Ma che succede la mia combo, bro? Ah? Cazzo non ho pensato al A Rovin di Gian Fuck it man Ci devo pensare Azir? Però perché si è fermato? Ma era salvo? No, deprimente cazzo Beh, non mi gliel'ho pingato, Rakan Che palle Dovrei che io appare le cose Quando è perché il tizio ha Vabbè, Catrina mi ha raggiunto Ma come è possibile Catrina mi abbia raggiunto? Ah, mio Dio Che palle, infatti il padre stava senza Ah, mannaggia, mannaggia, Catrina di merda Vaffanculo Vabbè, il game è ancora una frenzia Scaliamo Poi non siamo così behind È un peccato perché Catrina ha preso queste kill regalate Mortacci di Gianna che ha troma Rakan E fanculo anche Catrina Io non ho capito il che mi ha raggiunto Catrina lì comunque Forse lo so dire sì Ho Gianna da Muspite e alleati Mi ricordo, ma pare di sì Gianna da Muspite e altri Sì, il tizio è il counter Pixie counter Picca Ma Nessamente buttiamo un house trailer Diamo, non c'è nessun problema Nessamente Sto che non vinciamo Troppo presto la combi Rakan Abbiamo preso uno shutdown Ma questa devono essere due kill Se Rakan avesse aspettato Le avremmo ci sono entrambi Anche se a Zira non posso rimasto off Mid a spampingare Quando sapevo che eravamo vinto il fight Avevo chiamato Kart sul roam E è venuto E erano 5 contro 3 praticamente qua Che già era late al roaming Abbiamo anche preso il shutdown su Catrina Che non è male Immagino Davano shutdown Forse non davano Non lo show down Vabbè sti cazzi Abbiamo preso il suo Catrina Però è un peccato Perché qua dobbiamo vincere di più Se avessero ascoltato Se avessero giocato a moda Ah, still, ok Nasus è andato Adios Ah, ne è la Gianna Quanto romano le palle Che gran seccatura Dobbiamo cercare di rallentare Il flow del game Possibilmente Il problema è la Gianna Che Fa un OB9 Spostandosi Spettiamolo fuori Spettiamolo fuori Spettiamolo fuori Spettiamolo fuori C'è l'isink che sta arrivando Ok Potrebbe anche invadermi qua Se in realtà sei furba Ah peccato non ho soldi per l'item Sed Devo accontentarmi le scarpe Ma sono un po' triste Eclissi era un bello spike 100 gold Allora Top possiamo aiutare? Non penso che vogliamo fare niente Le sim potrebbe anche essere bot Potrei fare un tentativo top Però allora è super sfuggevole Perchè non ha flashato Nasus? Flash slow era morta la tizia Al 100% Bottom hanno rispettato Sedley Stesso lag Abbiamo preso entrambla All'esamer di allora Allora Direi che non avrebbe dovuto uscire la voce ma dovremmo comunque arrivare in tempo Sedley Ah mi viene adesso sed che siamo morto anche Rakan Dai vinceremo lo stesso dai Dobbiamo solo fare Gisucadrina Potrebbe arrivare le sim Noi Non ci sono Grazie a tutti. Speriamo anche il drake, ci rendiamo qua possibilmente. Dobbiamo fare in fretta, dobbiamo fare. Peccato. No, si è rubato. So close! Se l'avessi startato prima, Garzus di merda. L'avremmo preso. Draven, Flash, Nuffranks. Stanno arrivando a mid. Spermi main. Lost drake. It's just that. For my father, King. For my father, King. For my father, King. Who dares defy my will? Can I? Dov'è deberia mettere la miss clickato. A ver, sarà così, però... Nice. Trebbe dipare Aurora. Siamo stati lenti, vai raga, non è missato il missabile, purtroppo. Ma it's ok, it's ok. Sì, è già per un po' di jungle. In realtà, col tempo che avevamo, no. Perché loro erano bot, erano regolare, eccetera, eccetera. Ma questi cazzo, abbiamo attorno a Bruno, non fa niente. Non abbiamo altri Cartus. For my father, the king. Io non so perché facciamo queste cose. Ben appena di scalare FID, I'm like, what the actual fuck, man? Cazzo, cazzo, cazzo. Cazzo, 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 cazzo. La domanda è, vogliamo fare questo bar, non hanno TP di Aurora? Abbiamo l'exos per Catarina, abbiamo detto, che sicuramente ci rende la vita più semplice. Nasus è arrivato in ritardo, ma io lo smite. Rakan ha anche lo scelgino, eh. Perfetto. Allora, ora siamo giganti, dai. Cartus è il 13, Azira è il 14. Abbiamo il Baron, abbiamo anche preso l'Ocean Drake, lo dobbiamo perdere. Perfetto. Possiamo anche stare così e non fare niente, perché non vediamo gli altri inside. Catarina dovrebbe essere morta. Perfetto. 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 Questa. Perfetto. 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 Ma l'avrei raggiunta Ma magari reinterrompiamo Oh Questa l'abbiamo reinterrotta Bene così Apriamo un attimino Sono a PAP Addie addie Vabbè prendiamoci una bella spiritivisa C'è qua Grazie Cryster del follow E eventuali altri Che potrei aver scammato Raiardando Nasus è sfidato Non è un problema Però dobbiamo perdere 20 secondi 40 secondi di tempo Non è un problema Sti cazzi Sti cazzi Ora e per sempre! Find me greater, ragazzi! andi il tempo per fare già la top sono a smacrowise veramente silver 3 ok possiamo pushare quelle mid facciamo il shock della jungle facciamo varon poi in realtà non dovrei recallare 200 gold item vabbè ma non ci serve neanche per vincere anche se è huge di me la spirit visage protect the faithful i gotta arrivare ulti draven arrivo friends se di uno ha suscitato un ass abbiamo altri cimpanzi quindi lascia aspettare quest'oggi non flammerò però il nas è veramente un troll cioè più che altro ci fa perdere tempo vabbè che noi outscaliamo quindi alla fine in un game del genere non è grave perdere tempo però però potremmo già chiudere il game 10 minuti fa 10 minuti fa magari no ah ma lei può anche ritornare lì ma vabbè se fai davo hard vincevamo no 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Allora andiamo a prendere c'è Ma è bad nel senso che se no se non trovavo il game era già over Però se io li committavo anche se non volevo Fettare 4v5 no? Però evidentemente eravamo così forti a potercelo premettere GG Va bene Nonostante il Cray Baby Nass Abbiamo vinto il game Era easy una volta Preso un po' di scaling sto game L'avevamo detto E li abbiamo un po' sofferto Perché non abbiamo rispettato i rovin di Gianna Quelli non ci ho pensato Tipo quando sono andati invaditi al loro blue Gianna è stata noiosissima sto game Motivo per cui abbiamo un po' rischiato Perché eravamo partiti in realtà con un grande start Va bene va bene dai Esco Chi non arriviamo? Dracan Kartus Di quanti onestamente onorabili Andiamo alla Kartus dai Abbiamo avuto i nostri sporci damage Manca un cuoricino Aspettavo un paio di cuoricini onestamente Siamo stati good guy Good attitude Abbiamo sciocollato Abbiamo fatto Ignorati così Non è un bel gesto onestamente Vabbè Vabbè Vabbè